18 chef e 9 eventi per portare il buono nel bello. È la filosofia che muove la brigata del diavolo che si è inventata Romagna Osteria. I cuochi più stimati del territorio escono dalle loro cucine e in brigata si ritrovano nelle piazze e nei borghi per offrire cene dove le materie prime si incontrano con la loro maestria. Prossimo appuntamento mercoledì 14 settembre sotto la vecchia pescheria di Rimini. È un sogno che si sta realizzando e direi si è realizzato in quanto abbiamo già fatto due uscite una a Torriana e una a Casteldelci in posti veramente belli, luoghi magici dove la gente c'era, ha apprezzato, ha già prenotato per altri eventi tipo questo della pescheria. I cuochi credo particolarmente contenti loro e io di loro perché hanno dato una dimostrazione di unità importante. Essere riconosciuti come il portavoce di un territorio da un punto di vista gastronomico capite da soli che comunque gratifica e ti dà piacere, rende bello il tuo sacrificio. Il sacrificio diventa valore. Siamo un gruppo di persone veramente motivate soprattutto perché creiamo in quello che stiamo facendo e creiamo nel territorio in cui lavoriamo. Mercoledì dalle 8 del mattino sarà possibile acquistare pesce fresco come si faceva su quei banchi 50 anni fa. In contemporanea tre chef prepareranno colazioni e pranzi ai sapori di mare nelle cucine allestite in piazza Cavour. Dalle 17 per un'ottantina di commensali visita guidate ai monumenti della città, aperitivo a Castelsismondo e cena in vecchia pescheria. La brigata per l'evento riminese è da leccarsi i baffi con otto tra gli chef più rinomati della Romagna. Dopo Rimini sarà la volta di Sant'Agata Feltri, Accomacchio, Perticara, Verucchio, Sant'Arcangelo e Cervia con appuntamenti fino alla fine di novembre. Un prodotto turistico che mira ad aggredire nuove fette di mercato. Diciamo sempre che dobbiamo andare nei mercati internazionali, quelli di alta qualità e poi dopo ci trastulliamo dicendo la Provenza, il Medoc, la Rue du Venn, la Francia oppure la Toscana. La Romagna è un posto pazzesco, straordinario. Nessuno ha una Camarga italiana, il nostro Delta del Po con i Casoni e l'Anguilla, le Saline di Cervia o i borghi, i castelli rinascimentali. Allora noi abbiamo provato a costruire, anche con fatica, dialogando, abbiamo provato a costruire una proposta che offre delle esperienze straordinarie, cioè i migliori cuochi italiani che ti fanno vivere una cena di territorio magari in un bosco della Val Marecchia, dentro un casone delle valli di Comacchio. Lo si fa il venerdì perché così quando fai quella proposta a chi proponi, gli proponi di prendere i tre giorni e quindi vive quel territorio tre giorni, venerdì, sabato e domenica.